Far capire l'architetto cosa fa, quali sono i suoi spazi di lavoro e soprattutto diciamo che caratteristiche ha lo studio di ognuno di noi, perché se uno girasse effettivamente così negli studi aperti di tanti architetti in tutta Italia, noterebbe che paradossalmente nessuno è uguale all'altro, quindi sono rappresentativi di idee, di propensioni diverse di ogni singolo professionista. Presenta così l'architetto Andrea Roselli, presidente dell'Ordine degli Architetti della BAT, l'evento Open che si svolgerà in tutta Italia tra il 23 e 24 giugno, un appuntamento che quest'anno rappresenta anche il clou delle celebrazioni per il centenario degli ordini degli architetti e degli ingegneri istituiti con la legge 1395 del 24 giugno 1923. La presentazione del programma nel pomeriggio di ieri durante l'evento Sport & Design che si è svolto a Barletta all'interno del circolo tennis Hugo Simon e che ha visto la qualificata partecipazione di numerosi relatori con focus dedicato alla normativa di riferimento e finanziamenti alle nuove tendenze del Wellness Home. Oggi ritengo che lo sport abbia bisogno necessariamente di uno studio più attento, più particolareggiato perché gli spazi pubblici hanno bisogno oggi di idee nuove che possano dare la possibilità di far sport a tutti, sia a chi fa sport a livello agonistico e chi fa sport in maniera leggera per passare il tempo. Per cui ritengo che questo sia uno dei temi centrali ultimamente. Quello che ho notato è che fino a 10-15 anni fa l'area wellness nei loro progetti veniva un po' alla fine. Ah sì, allora lì c'è una stanza che avanza, facciamoci la palestra. Ora non è più così. Quando fanno il primo progetto, l'inizio del progetto c'è il living room, c'è la cucina, c'è il garage e c'è in ogni caso l'area wellness perché è un'area della casa, ovviamente un'area dell'albergo, è un'area della suite, è un'area dell'ufficio perché il corporate wellness è un altro trend fortissimo che viene studiata fin dall'inizio del progetto. Andrea, Barletta, Biceglie, Canosa, Trani e Spinazzola tra studi privati ed eventi collettivi che nel fine settimana si prenderanno la scena sul territorio. In particolare all'interno di Palazzo Covelli, sede dell'Ordine a Trani, ci sarà uno spazio dedicato alla mostra di lavori dei giovani architetti iscritti all'albo. Questo avverrà non solo attraverso gli studi per tutti coloro che hanno la possibilità di avere degli studi che potranno essere aperti, però abbiamo tanti giovani iscritti che non hanno questa opportunità, pertanto creiamo degli eventi collettivi nelle varie città, nelle piazze, grazie ai patrocini di tutti i comuni che abbiamo richiesto noi come ordine.